ariete la luna parla di soldi ma l'aspetto complicato oggi è l'opposizione venere urano segno che al partner i vostri colpi di testa non vanno a genio e allora provate a cedergli il timone e almeno per una giornata uniformatevi alle sue decisioni toro luna nel segno amica di nettuno e plutone solleticati nel vostro amor proprio sarete più produttivi e fiduciosi bene anche la creatività l'opposizione del sole suggerisce però di non andare troppo in alto rispetto alle potenzialità del momento gemelli stuzzicati da venere urano partner e amici si guardano in cagnesco ma poi una volta amalgamati nel gruppo si trovano perfino simpatici nessuna novità al lavoro tuttavia avete bisogno di concentrarvi sulla routine per portare a casa il risultato cancro immaginazione e sensibilità diventeranno i vostri punti di forza e vi aiutano anche a risolvere una situazione di stallo nel lavoro oggi è il cuore però a scalpitare in cerca di esperienze e di emozioni forti la normalità non vi basta più leone sole e luna disarmonici al segno possono facilmente crearvi qualche disagio ma più che di fatti concreti si tratta di sensazioni passeggere la tensione emotiva provoca qualche incomprensione disturbando l'intesa col partner e i colleghi vergine il weekend si apre in bellezza con la luna e plutone dalla vostra saprete gestire con metodo qualsiasi tipo di impegno di lavoro piacere procedete sicuri e con le antenne drizzate per cogliere ogni segnale favorevole ai vostri progetti bilancia venere nel segno si oppone all'imprevedibile urano si fa forte il desiderio di dare un calcio alla routine prendete parte ad un evento un ambiente diverso dal solito vi darà la possibilità di stringere nuove amicizie e vantaggiose alleanze scorpione il sole nel segno riceve l'opposizione della luna ad ogni minima provocazione rischiate di reagire mettendo in atto la kermesse della gelosia anche al lavoro occhio a non oltrepassare il limite l'ambizione fuori portata diventa fonte di inquietudine sagittario oggi vi occorrerà un supplemento di diplomazia nei rapporti con gli altri partner e amici vi reclamano contentendosi la vostra presenza al lavoro tutto procede un po a rilento rispetto alla vostra esigenza di arrivare a conclusione capricorno abili e carismatici saprete sfruttare al meglio una circostanza favorevole ottenendo il consenso di una persona che vi interessa particolarmente affari amore famiglia tutto fila con il vento in poppa oggi persino le attività di routine acquario luna fastidiosa voi irrequieti venere e orano vi rendono scalpitanti volete di più ma in pratica non sapete bene nemmeno voi cosa il problema di un rapporto sta tra il vostro desiderio di indipendenza e il vostro bisogno di sentirvi amati pesci transitando in armonia con il vostro segno gli astri vi offrono mille occasioni per dare di via ad un weekend al di sopra delle aspettative armonia in coppia serenità con gli amici se il cuore è libero guardate innanzitutto tra loro